Il punto più profondo sulla terra è circa 11.000 metri E, nota come la Fossa delle Marianne In quanto si trova nella prossimità delle Isole Marianne Si trova tra la placa del Pacifico e quella delle Filippine Le prime rilevazioni sono state effettuate dalla spedizione Challenger fra il 1872 e il 1876 Tale spedizione arrivò a misurare una profondità di 8.184 metri L'ultima misurazione risale al 2011 In tale occasione è stata calcolata una profondità di 10.994 metri Ci sono stati in tutto quattro discese sul fondale con a bordo dell'equipaggio 1960 Due persone 2012 Uno persona 2019 Uno persona 2020 Uno persona